Amici, con molte differenze, ma essenzialmente amici di fronte alla Russia di Putin. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ricevuto alla Casa Bianca il suo omologo francese Emmanuel Macron. Biden ha evidenziato la storica alleanza con la Francia e ha sottolineato i valori democratici e il rispetto dei diritti umani che accomunano le due nazioni in contrasto con l'aggressione russa in Ucraina. Oggi ribadiamo che, come detto, ci schiereremo insieme contro questa brutalità e continueremo a sostenere con forza il popolo ucraino mentre difende le proprie case, le proprie famiglie, i propri asili nido, i propri ospedali, la propria sovranità, la propria integrità contro l'aggressione russa. Macron ha parlato dell'inconvente minaccia di guerra commerciale tra Washington e Bruxelles. Occorre risincronizzare le agende, ha detto, per evitare che gli incentivi fiscali applicati dagli Stati Uniti danneggino la Francia e l'Europa. Abbiamo deciso in contatto con altri leader europei e la Commissione di fare un lavoro che ora deve essere tecnico in modo che l'effetto domino degli aiuti fiscali statunitensi sui progetti europei si risolva. Vogliamo riuscire insieme, non uno contro l'altro. La visita arriva anche per risolvere le tensioni nelle relazioni dello scorso anno quando l'Australia ha rotto un contratto multimilionario per l'acquisto di sottomarini francesi e ha deciso di sviluppare sottomarini nucleari con l'aiuto di Washington.